Abbastanza importante, ce l'abbiamo messa tutta. Oggi dovevamo recuperare quello che non siamo riusciti a fare per vari motivi di ieri. Diciamo che oggi abbiamo lottato, siamo stati una squadra come siamo sempre state. Non so che dire, sono felice. Io mi auguro che questa cosa continui anche domani. Perché comunque, come hai detto tu, andiamo a giocarci il quinto a posto. È una cosa abbastanza importante per noi, per il nostro allenatore e per tutte le persone che ci stanno vicino. Soprattutto i dirigenti che sono riusciti a seguirci, sono riusciti a venire qui ad aiutarci, a darci una mano. E quindi basta, adesso si va a festeggiare. E si prepara la partita di domani, naturalmente, perché non è ancora finita. Adesso vedremo per il campionato come, insomma, ci dovremo comunque continuare ad allenare, continuare a impegnare. Perché comunque, ripeto, non è ancora finito niente. Anzi, diciamo che piano piano rinizierà tutto quanto. Però dai, per oggi sono abbastanza soddisfatta. Sia di me che soprattutto delle mie compagne, perché c'è stato un bel gruppo.